La sfida è quella di creare un architettore in movimento che possa ogni giorno stupire l'armatore e i propri ospiti. Il nostro credo è proprio questo, poter unire la passaronità e l'italianità insieme con la tecnologia più avanzata. Non creare soltanto un progetto, ma dare l'opportunità ai nostri clienti di fare un'esperienza unica a bordo delle proprie imbarcazioni. Grazie